Quando si vuole comprare un NFT siano davanti due strade, o si fa il mint di un NFT quando l'NFT ancora non esiste ed è qui che si possono fare i veri affari, oppure si compra un NFT che vengono rivenduti nel mercato secondario. Ma in questo video vediamo proprio come si fa il mint di un NFT. Anche se c'è da dire che questo non è un consiglio finanziario, non vi voglio indurre a comprare un NFT, ma con la mia esperienza voglio solamente illustrarvi il procedimento per farlo. Anche le più grandi collezioni come Boredepio Hot Club all'inizio non avevano 10.000 NFT su OpenSea. Ma quindi come fanno questi NFT ad essere qui? La risposta è molto semplice, perché qualcuno li ha mintati. E tra l'altro il prezzo di mint di un NFT è molto più basso rispetto al prezzo che l'NFT acquisirà in caso la collezione sbanchi. Immaginate che un Boredepio Hot Club nel mint poteva costare tra 50 e 100 dollari, mentre adesso centinaia di migliaia. Per mintare un NFT si hanno sempre due modi. O mintare attraverso un block explorer, come ad esempio Etherscan per Ethereum, che però è il modo più complicato e che credo, ma anche spero ovviamente, che nessuno usi, oppure tramite una minting d'app. Una minting d'app non è altro che un sito web che tramite dei codici che nemmeno sto qui a spiegarvi si connette allo smart contract e permette di rendere la minting experience il quanto più user friendly possibile. Voglio farvi vedere il procedimento per il mint di un NFT e lo farò tramite la mia minting d'app. Questa è una collezione che ho creato e della quale spiego il procedimento sul come lanciare una collezione del genere in questo video che vi lascio nelle schede e in descrizione. Per mintare un NFT sul mio sito, ma anche in tutte le altre minting d'app, quasi sicuramente dovrete trovare un pulsante per connettere il vostro wallet, come ad esempio questo. E una volta approvato il collegamento con il wallet, ecco che in questo caso ci sono delle statistiche, come il vostro indirizzo, gli NFT mintati ed il costo. Sì, avete letto bene. Attualmente gli NFT della mia collezione sono gratis, quindi se voleste prenderne uno per supportarmi per i contenuti che porto qui su YouTube, a me farebbe molto piacere. Tra l'altro sto anche creando una piattaforma per vedere dei contenuti esclusivi che potranno essere visti solamente dai possessori degli NFT. Quindi sono gratis, ma senza un NFT non potrete vedere questi futuri contenuti. Adesso se voglio mintare un NFT, clicco qui sul pulsante Mint e mi appare la transazione da provare. Vediamo come ci sono delle gas fees da pagare come per tutte le transazioni in blockchain. Ma pensate che con il mio contratto le gas fees che di solito si aggirano tra i 30 e 40 dollari, adesso vanno da 1 a 5 dollari. Un bel risparmio direi. Una volta approvata la transazione, l'NFT è mio e posso trovarlo su OpenSea come su qualsiasi altro marketplace e da qui posso metterlo in vendita all'asta o semplicemente tenermelo ed usarlo come pass di accesso a contenuti esclusivi. Ovviamente lo stesso vale per qualsiasi altra collezione. Ne prendo una a caso che ho cercato adesso su OpenSea. Tra l'altro non la conosco, non so che progetto hanno e non la comprate solamente perché la vedete in questo video. Se clicco qui e vado sul loro sito, se non sono stati già mintati tutti, dovrei avere la possibilità di mintare. Ed infatti ecco qui il pulsante Mint. Ora che lo clicco mi dovrebbe portare sulla pagina della DAP? Ah no, hanno la sezione Mint direttamente in questa pagina senza averne una dedicata come ad esempio ho fatto io. Ma vabbè, ci sta pure. E visto che non mi ha chiesto di collegare il wallet, probabilmente me lo chiederà dopo che scelgo quanti prenderne. Ed infatti sì, ecco che mi chiede di collegarmi con un wallet e poi il procedimento sarà sempre quello di approvare la transazione, pagare le Gaspis e poi ricevere l'NFT. Adesso tornando a fare un esempio con la mia collezione, vi faccio vedere quanto è contorto mintare direttamente da un Block Explorer. Come ad esempio Etherscan per la mia collezione che è sotto Ethereum, ma lo stesso vale anche per tutte le altre collezioni con blockchain differenti, l'importante è utilizzare il Block Explorer corretto. Dovremmo innanzitutto avere l'indirizzo dello smart contract della collezione, inserirlo in questa barra di ricerca e cercare. Poi dobbiamo andare qui in Read Contract, cercare la voce Cost e cliccare. Qui esce 0 ed io copio questo valore. Piccola parentesi, questo vale solamente perché adesso il valore è 0, altrimenti vi sarebbe apparso un numero in Big Number Format che voi avreste dovuto convertire. Poi vado nella sezione Write, collego il mio wallet da qui e poi cerco la voce Mint. Qui inserisco il numero degli NFT ed il prezzo, dopodiché dovrei cliccare qui per far partire la transazione. Pagare anche in questo caso le gas fees e il risultato sarebbe lo stesso di mintare da un sito web. Però avete visto quanto è più contorto mintare da un Block Explorer? Anche per questo video è tutto, io spero che vi sia stato utile e se così fosse lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti sempre inerenti a questo mondo. Ah, e se vi fa piacere potete supportarmi mintando gratuitamente un mio NFT. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! 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 Ciao!